Un cordiale saluto da Andrea Viagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Sulla 1 Panoramica si ricorda che a causa di lavori fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il letratto, traglio e roncobilaccio in direzione Bologna. Passiamo sulla FIPILI anche qui fino al 28 febbraio sul ramo di Livorno per lavori al viadotto Stagno, restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 76 e 400, restringimenti di carreggiata per lavori di manutenzione ai viadotti anche sul raccordo Sena-Firenze tra San Casciano e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. A Firenze per lavori con piattaforma aerea da domani 31 gennaio fino al 4 febbraio in orario 9.30 a 19 in via Monalda di vieto di transito tra Piazza degli Strozzi e via di Porta Rossa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!